Si muovono le graduatorie e con fatica si provano a snellire le liste d'attesa che vedono oltre 120 famiglie pesaresi al momento tagliate fuori dalla possibilità di accedere ai servizi educativi e in particolare a quelli della fascia 0-3 anni. Fascia in cui il Comune è riuscito ad aumentare la propria capacità d'accoglienza di 30 posti in più rispetto all'anno precedente, come riferito la scorsa settimana dall'assessora Camilla Murgia. Un ampliamento contenuto che attenua la ferita ma che non risolve un problema che si ripete cronicamente e che secondo la consigliera comunale d'opposizione Giulia Marchionni necessiterebbe di una nuova programmazione. Purtroppo in centinaia rimangono ogni anno fuori e non c'è possibilità per loro di trovare una soluzione, non solo nei servizi educativi comunali ma anche nel privato è difficile trovare posti. In questi giorni ci sono decine di mamme che mi stanno telefonando perché piano piano vedono che le graduatorie si stanno muovendo. Purtroppo però non tutte riescono a trovare una risposta nel comunale nonostante i movimenti delle graduatorie e alcune si trovano anche in difficoltà a trovare un posto nei servizi privati. Ecco il tema vero è che andrebbe fatta una nuova programmazione, una programmazione che parta ora per il 2025 in cui il Comune decide di mettere più risorse a disposizione, risorse interne senz'altro e magari perché no cercando un'interlocuzione anche con il privato che possa garantire qualche posto in più magari attivando delle convenzioni. Intanto il Comune si muove in prospettiva giudicandosi il bando ministeriale da oltre 2 milioni di euro per costruire un nuovo nido da 90 posti che vedrebbe la luce nel 2026. Bisogna dare atto del fatto che nel 2023 la città di Pesaro ha avuto 100 nuovi nati in meno. Ora pensare di costruire un nuovo nido che non possa dare risposta oggi ma darà risposta soltanto nel 2026 credo sia leggermente anacronistico. Se pensiamo soprattutto al fatto che nel 2026 quando questa struttura forse vedrà la luce ci dovrà essere personale formato e soprattutto risorse in disponibilità dell'amministrazione comunale per poter assumere personale formato e garantire i posti, i 90 posti che sono stati annunciati. Questo potrà essere forse una risposta per il futuro, non lo sappiamo neanche se la denatalità inciderata al punto da eventualmente non avere più neanche bisogno di quei posti. Però è evidente che oggi quella risposta non venga sopperita dal nuovo nido perché il nuovo nido non potrà servire ai bambini che a settembre 2024 si troveranno a casa senza la possibilità di accedere ai servizi educativi.